Una delegazione del distretto Pratesi al Ministero per chiedere certezze sul decreto End of Waste. Il 23 novembre un consiglio comunale straordinario sul carcere ha invitato anche il ministro Nordio. La parrocchia del Sacro Cuore lancia il doposcuola per studenti cinesi delle elementari e medie. Buon pomeriggio dalla telegiornale di TV Prato. Ieri una delegazione in rappresentanza del distretto Tessile Pratese si è recata al Ministero dell'Ambiente per tornare a chiedere certezze sul decreto End of Waste e di far accogliere le proprie istanze sull'EPR la responsabilità in capo al produttore. È stato un incontro positivo quello di ieri al Ministero dell'Ambiente tra il direttore del settore Economia Circolare Luca Proietti e una delegazione del distretto Tessile Pratese guidata dall'onorevole di Forza Italia Erika Mazzetti, promotrice dell'incontro dalla sindaca all'area Bugetti e dall'assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri. Il distretto produttivo Pratese ha fatto fronte comune per essere difesa e tutelato dall'Italia in Europa in vista dei regolamenti. In particolare il mondo delle imprese artigiane e industriali tessili rappresentato da Confindustria Toscana Nord, Confartigianato e CNA è tornato a chiedere certezze sul decreto End of Waste e di accogliere le proprie istanze sull'EPR, ossia la responsabilità in capo al produttore. Su quest'ultimo tema il direttore Proietti ha dimostrato attenzione alla proposta del distretto di estendere tale responsabilità anche alla filiera a monte della messa sul mercato del prodotto finito, cosa che permetterebbe a Prato, specializzata sul semilavorato, di non essere tagliata fuori dalla conseguente partita che si gioca sul riciclato. Sul decreto End of Waste il ministero ha chiesto che il distretto Pratese aggiorni e ripresenti l'emendamento al decreto inviato nell'ormai lontano 2018 e finito in un cassetto. Il tavolo del distretto quindi a breve lavorerà ad un testo aggiornato sulla propria idea di definizione di scarto tessile da inserire su una specifica piattaforma digitale nella speranza che tale documento possa poi finalmente diventare parte della normativa. Questo è il primo atto concreto sull'asse Prato-Roma del proposito di collaborazione lanciato all'inizio del mandato di Bugetti dall'onorevole Azzurra Mazzetti. Abbiamo preso un impegno vero per difendere il distretto di Prato e questo impegno va avanti, ha spiegato Mazzetti. Oltre di schieramenti c'è in gioco la nostra città che merita un lavoro nella stessa direzione, ha aggiunto. È stato un incontro che ci ha permesso di tornare a ribadire gli elementi normativi di cui abbiamo bisogno per continuare a fare ciò che facciamo da due secoli, riciclare i tessuti, ha dichiarato Bugetti. Sabato 23 novembre un consiglio comunale straordinario sulla situazione del carcere. Invitato anche il ministro della giustizia Nordio. Quattro suicidi solo nel 2024, disordini vari, tentativi di rivolta. È la situazione che ormai da tempo si vive all'interno del carcere della Dogaia. Un allarme lanciato a più riprese dalla politica cittadina e dai sindacati di polizia penitenziaria che non hanno esitato a parlare di situazione al collasso all'interno della casa circondariale. Sabato 23 novembre, a quella che ormai ha tutti gli effetti un'emergenza, sarà dedicato un consiglio comunale straordinario fissato per le 9.30. Al consiglio, richiesto dalla consigliera Faltoni e condiviso dalla maggioranza, è stato invitato anche il ministro della giustizia Nordio, che già ad agosto la sindaca Bugetti aveva invitato a Prato per trovare soluzioni alla drammatica situazione in cui si trova la Dogaia. L'invito è stato inoltrato tra gli altri ai parlamentari del territorio, agli assessori regionali Spinelli e Bezzini, al procuratore, ai sindacati di polizia penitenziaria, all'ordine degli avvocati e alle associazioni di volontariato. I sindacati che lamentano l'immobilismo del ministero da tempo ripetono che per riportare la situazione alla normalità servono personale, un direttore e un comandante in pianta stabile. Come Comune abbiamo le mani legate perché non è nostra competenza. Possiamo promuovere progetti di reinserimento e di coinvolgimento dei detenuti, ma sulle condizioni in cui si vive e si lavora in carcere non possiamo fare niente. Tocca al governo intervenire ed è doveroso che lo faccia, ha sottolineato la sindaca riferendosi al tema carcere. Prosegue la crescita delle tariffe RC auto con i prezzi delle polizie che segnano a settembre un più 6,8%, nominale su base annua e un costo medio di 414 euro. Ancora una volta la Toscana detiene il primato della regione con le tariffe assicurative più elevate, con ben 6 province nella top 10 italiana del caro Polizza. Lo afferma Asso Utenti dopo i nuovi dati forniti da IVAS, istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. La provincia di Prato con una media di 601 euro a Polizza, scalza Napoli dal primo posto della classifica italiana del caro RC auto. Riprendiamo la rubrica Le frazioni Cuore di Prato e continua il nostro viaggio a Santa Maria della Pietà. Oggi ci occupiamo dei problemi legati al traffico e alla manutenzione di strade e piazze. Collocata lungo una delle principali direttrici della viabilità cittadina, dalla zona nord a quella centrale ed est, la Pietà deve fare i conti con alti volumi di traffico nelle ore di punta. La mattina con l'ingresso delle scuole e il tardo pomeriggio, via Lambruschini, via San Benelli e via Le Borgo Valzugana, ma anche via Capponi e via Colletta, si trasformano in un lungo serpentone di auto. Per venire a lavorare qui spesso c'è coda. Ponte Datini è inaccessibile, quello non c'è modo di passare la mattina, c'è sempre qualcosa che non va a tantissime macchine. Quanto le occorre per arrivare al lavoro nell'ora di punta? Io abito alla stazione del Borgo Nuovo, quindi una quarantina di minuti. Lei è un'insegnante, com'è la stazione della viabilità per raggiungere la scuola? È difficile, sia qui che all'allivi. All'allivi è peggio ancora di qua. Nel 2021 gli abitanti della Pietà si sono divisi a suon di raccolta di firme, tra favorevoli e contrari, alla nuova rotondina tra via Colletta e via Machiavelli. Il riassetto, che ha previsto anche il cambio di sensi di marcia tra via Abba, via Sarpi e via Colletta, ha semplificato i percorsi dei flussi di traffico e mira a ridurre l'incidentalità, anche se le piccole dimensioni della rotonda non aiutano le manovre di svolta. La rotondina ha creato sicuramente dei problemi, ma ne ha tolti anche altri. Facevano molti incidenti molto prima, facevano incidenti di più, erano anche mortali. Ora, incidenti ci sono qualche ed uno, ma non sono più mortali. E questo mi sembra positivo. Ci passano tante macchine, sicuramente tante macchine. È peggiorato per chi ci sta di casa. Da una rotondina realizzata ad un'altra ipotizzata da alcuni residenti, per migliorare la sicurezza stradale in via 24 Maggio, in prossimità di via dei Cancelli. Qui le auto transitano a doppio senso. In un punto in cui la carreggiata è stretta, l'incrocio non consente una buona visibilità, mentre sull'altro lato incombe il ciglio del fosso di Giolica. Il che poi sono 7-8 metri, proprio di fronte al tabernacolo, è lì che il nodo problematico. Oltretutto la visibilità non è la migliore, nonostante ci sia uno specchio, perché la vegetazione incolta sul lato del tabernacolo ostruisce la vista di chi arriva dalla strada di sotto per capire se sta arrivando qualcuno a destra piuttosto che a sinistra. In piazza Santa Maria della Pietà il comune di Prato ha provveduto alla potatura del verde e tra gennaio e febbraio prossimo è previsto il potenziamento dell'illuminazione pubblica. Ma da oltre 20 giorni sgorga copiosa l'acqua dalle tubazioni per l'enesima perdita segnalata dai residenti, che attendono anche il rifacimento della pavimentazione del marciapiede circostante la chiesa e nella piazza, pieno di buche, oltre alla sistemazione dell'asfalto nella diacente via Rosmini. I marciapiedi sono messi male, purtroppo gli anziani, e siamo anche tanti gli anziani, ci si inciampa, è pericoloso, dovrebbero essere fatti, è da tempo che aspettiamo, però ancora nulla. La parrocchia del Sacro Cuore lancia il doposcuola per studenti cinesi. L'iniziativa rivolta a bambini e ragazzi delle elementari e delle medie è realizzata in collaborazione con la cooperativa Prato Cultura. Dopo la scuola d'italiano per gli adulti, partita la scorsa estate e frequentata da una settantina di persone, la parrocchia del Sacro Cuore di Prato propone una nuova iniziativa rivolta alla comunità cinese, il doposcuola per bambini e ragazzi. Il progetto nasce in collaborazione con la cooperativa Prato Cultura, è pensato per gli alunni delle scuole elementari e medie e si inserisce nell'attività pastorale dei Padri Verbiti, comunità missionaria che da poco più di un anno è stata chiamata dal Vescovo Giovanni Nerbini a guidare la parrocchia dei Ciliani, con l'obiettivo di creare anche dei punti con la comunità orientale, avvalendosi anche della conoscenza della lingua cinese di padre Giacomo e del parroco padre Attilio Rossi, che ha un passato da missionario a Taiwan. Essendo che i loro genitori, i genitori dei ragazzi, lavorano fino a tardi alla sera, hanno il problema che i figli, i bambini, quelli delle medie, insomma i ragazzi, non hanno la possibilità di stare a casa con i genitori, quindi hanno bisogno di un luogo dove poter studiare, dove poter essere in sicurezza e imparare. Ecco, quindi vogliamo offrire questo servizio qua in questa parrocchia anche usando una struttura che era già stata costruita, la struttura di comunità viva, quindi è sempre stata poco usata e quindi adesso abbiamo a disposizione questi locali per fare in collaborazione con Prato Cultura una cooperativa, ecco, fare questo lavoro di cooperazione con la diocesi per un servizio. Nei giorni scorsi, davanti alle scuole, nelle zone dove è più alta la concentrazione di famiglie provenienti dalla Cina, sono stati distribuiti volantini in italiano e in cinese per far conoscere la proposta del doposcuola, un servizio a pagamento al quale possono partecipare anche bambini e bambine, ragazzi e ragazzi non cinesi. Al doposcuola di comunità viva, da lunedì al venerdì pomeriggio, si svolgeranno varie attività, dal fare i compiti insieme a dei tutor appartenenti alla cooperativa Prato Cultura, al potenziamento della lingua e della cultura italiana, mentre il sabato e la domenica, dalle 10 alle 18, sono in programma corsi di cinese, di matematica, di inglese ed altre materie fondamentali. Siamo alle previsioni del tempo, allora la linea passa alla sala meteo del Consorzio Lamma. Buongiorno a tutti dalla sala meteo del Lamma, guardiamo subito quello che ci mostra in questo momento il satellite, vediamo come gran parte dell'Europa si asgombra da nuvole, questo per la presenza di un vasto campo di alta pressione, una depressione ancora insiste sulla Spagna, però in attenuazione il flusso atlantico scorre più a ovest e poi più a nord, lasciando libero gran parte dell'Europa. Lo vediamo meglio anche da quest'altra immagine che ci mostra la pressione al suolo, sul continente europeo, vediamo valori e colori sul rosso, quindi pressione decisamente alta, quindi anticiclone su gran parte del continente europeo, le basse pressioni non riescono a entrare sul Mediterraneo, le perturbazioni scorrono più a ovest e poi più a nord. Andiamo a vedere la previsione per la giornata di oggi, puntando più sul pomeriggio, vediamo che il cielo sarà poco nuvoloso, qualche nuvola alta di passaggio, venti deboli orientali, temperature sempre abbastanza alte, valori fino a 17-20 gradi in pianura. Passiamo alla giornata di domani, vediamo che poco cambia, ancora un cielo sereno, poco nuvoloso, qualche foschia a banco di nebbia nelle prime ore del mattino sulle pianure più interne, qualche annuvolamento anche sulla costa, però solo temporaneo, temperature minime sempre sui valori di oggi, quindi tra i 4 e i 7 gradi, specialmente in pianura, valori più umidi in collina e in montagna nel pomeriggio, un cielo ancora poco nuvoloso, qualche nube così alta di passaggio che vedrà temporaneamente il cielo, le temperature nei valori massimi non cambieranno molto rispetto a oggi, 17-20 gradi previsti in pianura. Bene, con questo direi che è tutto. Vi ricordiamo un nuovo appuntamento questa sera alle ore 19 con la Stoffa di Prato, la trasmissione curata e condotta da Arianna Di Rubba. Ospiti Gaia Spinelli del gruppo Give, Giacomo Forte, curatore della Rassegna Centro Pecci Books. Grazie e buona continuazione su TV Prato. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.